buongiorno a tutti oggi ci troviamo a casa di Eppi e Coco due simpaticissimi bulldog francesi come potete vedere che abitano in un appartamento vicino al centro di Iesi di 120 metri quadrati l'appartamento si trova in uno stabile di quattro unità abitative ed è stato completamente ristrutturato nel 2008 gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato sia tutti gli impianti idrico termico ed elettrico sia gli infissi interni ed esterni e anche ovviamente le pavimentazioni i toni di grigio che sono stati usati hanno reso l'immobile particolarmente interessante dal punto di vista proprio dell'eleganza e hanno creato anche un'atmosfera piuttosto rilassante all'interno venitelo a scoprire con me grazie a tutti grazie a tutti ricapitolando oggi abbiamo visto un appartamento di 120 metri quadrati in zona centrale e residenziale a Iesi è stato completamente ristrutturato nel 2008 ed è composto da due camere, doppi servizi, cucina pranzo e un ampio soggiorno sopra l'appartamento abbiamo un accessorio di 35 metri quadrati che può essere anche collegato internamente completano la proprietà due posti auto attigui per una metratura complessiva di 37 metri quadrati coperti se vi è piaciuto veniteci a trovare in ufficio vi aspettiamo grazie a tutti